Questa domenica 25 ottobre è andata in scena sul lago di Iseo la prima tappa del tradizionale campionato autunno-inverno sul Sebino organizzato dall'ANS, l'associazione Nautica Sebina. La regata svoltasi nelle acque distanti Iseo e Sulzano era aperta ai tesserati FIV e rivolta alla classe UFO 22. Le restrizioni in vigore ai protocolli anti-covid hanno inciso notevolmente sul numero dei partecipanti, ma la giornata accompagnata da un meteo splendido ha saputo regalare a tutti piccoli e grandi emozioni e spettacolo. Questa è la prima tappa del campionato invernale UFO 22, una classe che da anni è regata sui laghi principalmente del nord Italia, ma che svolge attività anche nei mari del nostro bel paese. Si è voluta radunare la classe qui presso la nostra associazione perché abbiamo già una flotta numerosa che risiede qua presso il nostro circolo. Ahimè le restrizioni e le paure date dal crescente ondata numero 2 di Covid purtroppo hanno ridotto i partecipanti perché tanti non se la sono sentita di spostare le imbarcazioni. Chi viene dal resto d'Italia giustamente non se la sentiva di fare la trasferta per questa cosa. Però diciamo che abbiamo diversi armatori della zona, sia Lago di Garda che qui Lago di Iseo, che ci hanno creduto, hanno voluto partecipare comunque a questa che purtroppo sembrerebbe l'ultima domenica di regate prima della pausa invernale. Abbiamo comunque una decina di barche presenti in acqua, oltre agli UFO 22 oggi si saranno in acqua anche tutte le squadre agonistiche della nostra associazione che faranno l'ultima giornata di saluto alla stagione 2020. Il percorso della regata di oggi sarà un bastone, ci saranno tre prove e quindi sarà un bastone lungo circa un miglio nord-sud davanti alle acque del comune di Iseo e sul comune di Sulzano. Le altre tre tappe del circuito sarebbero in programma il 15 novembre, il prossimo febbraio, ma il loro effettivo svolgimento è strettamente vincolato al nuovo DPCM. Per ora dunque, ultimo appuntamento agonistico per la storica associazione con sede a Sulzano, reduce da un'estate in termini di presenze assai positiva. Incredibilmente la stagione 2020, nonostante le problematiche che tutti conosciamo, è andata decisamente bene. Abbiamo avuto una grande affluenza da parte dei nostri soci storici e un ritorno di tutta l'utenza locale che ha rivisto nel lago di Iseo, ha recuperato quello che era la possibilità di soggiornare, di passare le vacanze e qualche giornata spensierata. Dal punto di vista organizzativo, la macchina sportiva ha retto, i ragazzi hanno trovato una bella valvola di sfogo nella vela, un posto dove poter interagire anche in maniera sicura, quindi direi che possiamo non essere contenti di questa stagione 2020, nonostante tutto.